I manufatti in cemento, pesanti circa 30 quintali l'uno che impedivano il passaggio dei mezzi pesanti lungo il ponte di Pievetta, sono stati rimossi. Ora il viadotto che collega Castel San Giovanni a Pieve Porto Morone, sulla sponda lombarda del fiume Po, è diventato davvero e finalmente percorribile da tutti i mezzi senza più nessuna limitazione di peso. Le lunghe code che si sono formate e le proteste di qualche automobilista contrariato sono state, almeno così si spera, le ultime. Possono ora passare lungo il ponte camion, tir, macchine, ciclisti, motociclette. Le operazioni sono state rese ancora più complicate dal fatto che i pesanti manufatti erano agganciati all'asfalto con grossi ganci di ferro. La liberazione, se così si può definire, del ponte è avvenuta dopo un anno di lavori e oltre tre anni e mezzo di stop ai mezzi pesanti. Tra i presenti una piccola folla di amministratori di Castel San Giovanni e dei comuni valtidonesi, del comune di Pieve Porto Morone, maestranze, rappresentanti delle province di Pavia, che ha finanziato con 6 milioni di euro, e Piacenza. Credo sia giusto ricordare, insieme alle tante critiche che sono arrivate quando il ponte era chiuso, che questi lavori sono stati eseguiti bene, sono stati eseguiti nei tempi programmati e che questa puntualità nell'esecuzione dei lavori credo possa restituire fiducia ai cittadini nel momento in cui guardano alle istituzioni con l'aspettativa di chi chiede di vedere garantita la loro sicurezza. Da più parti è stata sottolineata la sinergia che ha reso possibile restituire il ponte ai suoi fruitori. La provincia di Piacenza, così come i comuni Castel San Giovanni, hanno sempre offerto la loro collaborazione. Noi ci siamo aperti anche al confronto, abbiamo voluto spiegare alla comunità piacentina, oltre che a quella pavese, in che cosa consistevano i lavori, quanto avrebbero impegnato in termini di tempo. Direi che questi risultati nascono da questa capacità di saper guardare insieme ai problemi e di collaborare tirando tutti nella stessa direzione.